Entra nel vivo con le finali del campionato di bici soccer che si giocheranno da venerdì 2 agosto fino a domenica sulla sabbia dell'arena permanente di San Benedetto del Tronto inaugurata nel 2023 sul litorale dell'ex Camporodi la fase finale della stagione. Nel quarto di finale la Farma e Viareggio affronterà il Catania FC venerdì alle 15.30. I campioni in carica del Viareggio sono arrivati terzi, il Catania sesto, a soli tre punti di distanza. È la decima sfida tra le due squadre, sei successi per i viaregini, tre per gli etnei, gli ultimi da quando la società ha cambiato assetto. Le zebre non superano Catania dal 2022, l'unica volta che i bianconeri e il rosso-azzurri si sono affrontati alla finale iterisale al 2014, sempre ai quarti, vinse Viareggio. Se tagliamo i dieci gol assegnati a Tavolino, al Pisa, il Viareggio ha concluso la fase a Giloni con il migliore attacco 55 reti, 23 le assegnate insieme Gabriele Gori, 13 Alessandro Remedi, 10. In caso di vittoria dei ragazzi di Francesco Corosiniti, sarebbe l'undicesima volta la terza di fila che la squadra bianconera entra nel gruppo delle migliori quattro d'Italia. Si è perso Emanuele Zurlo!